musica 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 oh cazzo ce l'ho fatta sono un genio sono un fattuto genio ragazzi non l'hai fatto senza blocchi day 5 day 44 oddio è tipo oddio è tipo un esplora oh mio dio 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 oh fanculo torno a casa prendo la lana e torno a casa ragazzi non potete capire cosa ho trovato aspettaci aspettaci quando ceci mi viene urla secondo me lana verde lana naim quando ceci mi vede urla guarda dovete salire per la cascata ragazzi dovete salire per la cascata c'è una cascata qua no sei morto no sei morto va così va così ho quattro accette ho quattro accette di chietra cibo pantaloncini ossa blocchi no c'è voglio dirvi il mio inventario tre chest 64 frecce più 32 32 di zucchero una bistecca dei come cazzo stivali di cuoio un'accetta quattro rottenflesh otto di pietra concia 24 di arenaria 20 di cuoio 2 tnt 6 di sabbia una ciotola 4 stecchetti un cactus del pietrame della selce dei funghi l'alluminite la ghiaia la spada di legno la palla di legno delle torce il piccolo di legno che figata si ma sono 36 gli spazi che puoi avere e io ho preso la cesta infatti sono pieno infatti sono pieno non ho più spazio devo andare a portare giù le cose ho anche preso la lana la lana era qua ragazzi la lana era qua ragazzi wow wow perché mi è comparsa una cesta eh perché stavo stavo usando la crafting e avevo in mano la cesta wow mi prendo un po' di lana anche io l'ho presa eh torniamo indietro ragazzi non ne posso più di questo luogo l'ho preso i 12 torniamo indietro vai si un'altra lana un'altra lana sbocciamo per vedere hashtag si sboccia hashtag occhio all'enderman che se lo guardate dopo morite male scheletro giggia 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 ti vedo non fare tutta la scala ti vedo guarda eh mi hanno spinto via gli scheletri ragazzi mi hanno spinto via gli scheletri aia aia arriviamo no ma tranquillo l'armatura di cosa quindi non ho più bene no c'è squint che è una serie è legolas quindi creeper che sia creeper ho due cuori e mezzo va bene torniamo subito a casa passi passi passa 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 io ti sto dietro ti sto dietro zombie 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 ammazzate me non prendete il presidente non prendete il presidente no no cosa è successo aiuto aiuto ho una metafora che penso penso si possa chiamare metafora sai quando tipo rompi il vetro e chiami carglas per farlo aggiustare per farlo aggiustare gratuitamente si ecco noi non potevamo non riuscivamo a fare il dungeon e abbiamo chiamato eh si eh ragazzi c'è perchè se non chiami squint 00 sei un coglione quindi squint 00 uguale carglas WTF vabbè l'ultima parte è forse un po' più confusa però va bene lo stesso money grabber solo quante asce di pietra ma cazzo ma mi ha fatto usare un asce di pietra perchè tipo tutte a 104 ma perchè tipo avevo quattro asce di pietra nella stessa mano ok questo è stranissimo non lo so più di altro anche perchè tutte hanno la durabilità a 104 appunto e come ho usato tipo quattro asce contemporaneamente che bug è ah andiamo a portare la lana la lana limer a casa ragazzi che così andiamo venite tutti venite tutti così concludiamo l'episodio si un attimo faccio una spada va bene e fa io vado avanti con aspetta falla dopo perchè non dobbiamo fare spade piccone tutto bordello c'è bordello bordello c'è bordello perchè se non fai spade piccone e tutto sei un coglione andiamo andiamo prima che io cominci a sclerare infatti sono un coglione perchè ho soltanto l'ascia c'è anch'io soltanto l'ascia adesso mi riprenderò ancora ah ok ma se ci aspetti ma che tipo io lo so a memorial dungeon quindi se mi aspetti magari ti dico dove andare no ma ho fatto tutto intravedo un creeper intravedo un creeper come? ho capito che ho sbagliato di qua dove sei? squint ah sei di qua eh che dall'altra parte ecco perchè non trovavo la strada prima mi son perso un quarto d'ora di dentro i appa i appa i appa i appia aspetta che qua chiudo aspetta lui salta perchè arte tu pensa dove c'è questo ponte di mattoni squid una volta era pieno di silverfish hashtag ricordiamo i silverfish 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 tanti silverfish aiuto addio 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 ma quando se ne rompi i ballo oddio mio oddio mio oddio mio quelle cose li sono sono l'inferno ho fatto a mob cece potremmo avere un problema potremmo avere un grosso problema un grossissimo problema no no siete pazzi 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 maniaci pazzi maniaci qua c'è una strada però che mi fa bene io muoio ciao che ma ci eravamo stati qua lascia un face oddio oddio oh cece cece spostati questo no 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 sono tutto il silverfish no 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 cece vattene via vattene via cece no 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 è qualcosa per tipo fare il ponte no no ma no Sono saliti, sono saliti Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, aiuto Guarda No, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ehi là No, no, vado in retro Vado in retro, crito Aiuto, Gege Gege Aia, aia Bastardi, ah, non mi potete prendere No, 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 scivaci, scivaci No, 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 no Quanti sono? Quanti sono? Sono morto, sono morto, sono morto Oddio, quanti Addio, addio Aiuto Cioè, ti rendi conto che ho perso già il piccone? Perché mi stai seguendo Se ne colpisci qualcuno, spavano dalla roccia No, ce c'è Eh, sì, cos'è? Era No, no Eh, però si aperte un bel buffo No, ce c'è Io sono morto No, la lava, no No, sono rispawnato qua Mi toccare di fare tutto il via No, no Hashtag remember Hashtag non ne posso più di single fish Hashtag me vuota tutto Ma il cane è messo tu Lo dovevo mettere io Ah Ecco Adesso mi sento convinto Bene, ok ragazzi Quindi per questo è più gioco Che cazzo è sta Oh, cos'è sta roba? È Squid che tipo fa I punti di lana verde Io vado a mettere la lana verde qua Quindi Boom, baby Eh, niente Se lo guardi da lontano Sembra un mega pollice Perché sono cinque lame Quindi sento una madre Ok, ho completato un mega pollice Quindi ragazzi Se non è piaciuto Lasciate un commento Mi piace E se non ci vedo In un prossimo video Di questa fantastica serie Quindi Ringrazio Squid00 E Cece per la partecipazione Quindi Bella ragazzi Bella Ciao a tutti Ciao a tutti